Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su FIFA 19 Carriera Allenatore Perugia molti di voi, visto che stiamo sul calciomercato, mi stanno dicendo compra questo, compra quest'altro, compra quell'altro allora vi voglio farvi dire una cosa, il nostro budget è questo, cioè non ci abbiamo una mazza vi ricordo che siamo partiti alla serie B, non ho chiesto nessun aiuto l'unica cosa che in pratica ho sblocchiato e anche adesso ce l'ho fatto tardi è stata questa cosa di modificare i calciatori perché ho messo il colore delle scarpe diverse a dito, a tonali e a bastoni così perché sono quelli che secondo me possono migliorare di più, poi per il resto la rosa è quella scrivetemi sotto nei commenti, visto che guardando un attimo il calendario prossimo episodio dovremmo ancora farcela, chi potremmo acquistare, qualcuno con il nostro budget io volevo prendere qualcuno per esempio anche di farlo ritornare in Italia tipo per esempio un Giovinco, un Lavezzi, anche se sono vecchi solo che costa, addirittura volevo beccare Tevez che ha 35 anni ma costa un capitale, volevo pure la causa di riuscissime da 7 milioni quindi vanno un po' in difficoltà, magari voi mi sapete aiutare un pochettino meglio abbiamo, che ammazza che quante partite, porca miseria quindi col sassuolo secondo me dobbiamo fare un pochettino di cambi perché non voglio affaticare, nessuno lo sapete, ci tengo alla Coppa Italia quindi io farei così, una maglietta non ho capito scusami perché è bianco e mi dà la russa stai fuori, stai completamente fuori ok, va bene quindi così va bene, se iniziamo già così siamo inguaiati allora gestione squadra allora facciamo così mi raccomando mettiamo Pellegri al posto di Vido perché Vido lo voglio calico per la partita di dopo poi Groenberg lo mettiamo al posto di Kresic poi faccio molti cambi voglio mettere Gasperoni al posto di facciamo Dragomir perché a Dei un po' mi dura di più poi facciamo qualche altro cambio Mustacchio al posto di Aspriglia mamma mia quanti cambi che stiamo facendo e poi ci mettiamo anche Falasco al posto di Pellegrini Bianchimano, Dragomir, Aguirre ok, terzino a destra, russa questa è ancora se è giovane questa non mi può essere forte ma che dite gli facciamo fare una bella partita dai rischiamo e ho messo parecchie persone solo al centrocampo mamma mia ragazza la neve vabbè punterò al pareggio che vi devo dire io spero sinceramente che non si fanno male vabbè il resto ok vai bravo ragazzo uh vabbè vabbè allora Gabriel mi raccomando bravissimo dovrebbe essere ok bravissimo ragasperoni ecco però Gasperoni se iniziamo così non credo che farai molte partite attenzione attenzione uh sì cercherò un pochettino perché sapete benissimo che noi già pecchiamo tantissimo di controllo poi figuriamoci poi beh sì però non mi dà ste palle così mamma mia bravissimo uh Tonali mi ha fatto dai vai dai vai oh attenzione perché c'è la caccia del gol e il vantaggio questa può essere la caccia Gasperoni che ti sei mangiato mamma mia ragazzi ma che zappata guarda lì stava quasi segnando però ok bello questo questa è bella questa è bella madonna mia ma come si fa a fare un tiro del genere Mattia ma perché ma come si fa ma come si fa ok bravo dalla ok dai in mezzo dai in mezzo e mamma mia ragazzi allora se credo che era fisicamente impossibile sbagliare ma comunque questo ragazzo è potente è potente è anche il socio di Vido assomiglia a Vido solo che è il centrocampista e c'è un 58 un 60 cioè ma è forte sfortunato infatti 50 ti limporta cioè ma neanche saltato l'ha beccato e basta vabbè ma che fai per lei attenzione portiere che ha fatto che cavolo allora voglio vedere un attimo se ci convenne fare qualche cambio perché allora io tipo per esempio metterei a Dei e mettiamo Cano perché sapete benissimo che ce li dobbiamo conservare e poi no Mattia Russo lo terrei ancora e poi magari vediamo un po' lo so che perdiamo un po' di potenza però abbiamo la Coppa Italia è importante la Coppa Italia deviazione ok no no sta va bene ce la possiamo fare si no ok allarga sopra che meglio bravissimo no porca di no porca si bravissimo bravo ok bella questa bellissima vabbè fa niente fa niente fa niente nessuno non c'è nessuno attenzione mamma mia vediamo un pochettino se riusciamo a giocarcela un po' dai stando sempre attenti bravo ok fatti vedere mamma mia mamma mia ma come si fa da una palla così come si fa da una palla così la dovevi solo appoggiare se non farà butto Mustacchio vabbè l'abbiamo vinta e rubata questa partita e sono contento maledetto Mustacchio ok sto mettendo anche Gasperoni perché il ragazzo è forte questo lo vedo abbastanza bravo la percentuale è anche molto alta tonale inutile che ve lo dico 400 e dispari tonale mamma mia una potenza abbiamo fatto parecchi messaggi conferenza stampa non stiamo seguendo i piani abbiamo scusato l'obiettivo far crescere il cable sotto il profilo economico rappresenta un traguardo importante scusate si lo so grazie mister falasco prego tu non vi preoccupate conferenza stampa parliamo del Milan del NAP eh vabbù parliamo del Perugia e lo motiviamo ok io sta cosa non ho capito ancora cosa possa servire perfetto ma come stiamo scusate stiamo a 4.61 tra un po' arriviamo a 10 non vi preoccupare mamma mia ci danno il tormento ci danno allora Coppa Italia qua ci dobbiamo impegnare scegliamo una bella maglietta vabbè facciamo il bianco e il nero così vediamo bene ok allora gestione squadra abbiamo Mattia Russa così allora così andiamo perfetti i tonali soltanto potrebbero essere stanco ma lo facciamo riposare poi dopo successivamente vai piove e vabbè giochiamo fuori casa non fa niente sinceramente preferirei avete visto il video c'ha lo scarpino nuovo c'ha ok pensaino per cosa ok no no allora iniziamo questi colpi di testa brutti portiere bravo Gabriel ok dall'alto nali dall'alto nali ma porca di quella miseria Dragomir non ci ha messo la sostanza proprio ci siamo già mangiati il primo gol mamma mia se non ci mangiamo almeno 7-8 gol niente ok ma perché video dove lo metti questo è un grande gol a culo ragazzi e vai video buttiamola dentro un bel tiro di sinistro grande fai bene fai bene e questo ce lo rivediamo tutto quanto ragazzi da qua da qua da qua ho tirato e basta ci avevo fatto questo titolo vabbè 1-0 perché facciamo questi errori così perché mi devo incazzare forza portiere mamma mia ma anche il rinvio è un ganchino dai non cerchiamo di farci fregare portiere mamma mia non mi piace quando facciamo queste cose perché ecco perché poi gli facciamo prendere fiducia dai 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 mattia vai e ti hai fatto recuperare 99 di velocità mattia io ti faccio salire tanto in velocità e poi in queste cose mi viene così meno la so che stai stanco però non mi piace questa situazione è mia è rimbalzato sulla vai Vito vai vai Vito è fallo è fallo è anche ultimo uomo è anche ultimo uomo c'è da cui è graziato vabbè che ferma giustamente il gioco questa è un'entrata è Vito questa potrebbe essere la tua mattonella vabbè ok bravissimo uh aspetta spiglia ok ok attenzione pericolo allarga bravissimo forza facciamoli scendi facciamoli scendere ok 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 non riesco a penetrare vabbè vabbè facciamo un cambio perché ho paura che Martia Russo mi muore il tonale di questo abbastanza stanco ok mettiamo al posto di Martia Russo ci mettiamo Mustacchio però facciamo un cambio perché Mustacchio è scarso quindi non lo posso far giocare come gli esterni un'altra cosa bella ok bravissimo Matteo quanto c'è ancora da vivere di questo match ok e che ti deve dire ok vai che ormai penso che sia nostra grande vabbè finisce così 1 a 0 e anche questa partita l'abbiamo praticamente portata a casa alla grandissima ragazzi mi fa molto piacere perché questo è praticamente come si chiama Coppa Italia e a questo punto siamo rimasti con non ho visto c'è Napoli che pure è passata la Fiorentina e la Laz che poi è quella che ci ha anche battuto beh secondo me si potrebbe anche fare la passiamo attiva con chi la facciamo no ah no ci sono ancora altri ottafi vabbè sì il cammino è ancora a lungo dai è inutile che ci buttiamo avanti perché vuol dire che ancora è strano farò soltanto due partite perché ci tenevo a spiegarvi questa cosa per ciò che riguarda il calciomercato e scrivetemi sotto nei commenti quale secondo voi potrebbe essere il prossimo acquisto naturalmente come se non vi invito possiamo mettere un bocce su un bel commento un bel mi piace ci vediamo al prossimo video bye ciao 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 Grazie a tutti.